Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro giocatore, siamo tornati signori di nuovo su Clash Royale Siamo qua con un nuovo chest opening per cercare lo stregone, quello elettrico ragazzi Vediamo un po' se riusciamo a trovarlo e a sculare con qualche baule super magico Allora, intanto stiamo, come state vedendo, sempre a 3622 copp Ragazzi, sto salendo, un po' diminuisco, un po' risalgo, un po' ridiminuisco Intanto qui, con il clan, mandiamo un bel salutone ragazzi Perché i prezzi stanno giocando veramente tanto bene Sì, stavo scrivendo sull'autone, ciao belli Ok, mandiamo un bel saluto a tutti quanti Dove praticamente, stiamo praticamente al baule del clan 9 di 10 E praticamente rimangono 500, meno di 500 coppie per prendere il massimo dei baule Quindi veramente stanno giocando tantissimo e li voglio ringraziare perché stanno facendo un ottimo, ma un ottimo lavoro Il clan è pieno ragazzi, quindi intanto mi avete chiesto, fai il posto, fai qua di là Io ragazzi, ogni tanto comunque la gente la mando via dal clan perché gli inattivi o chi non gioca, chi non dona e cose varie Li mando fuori e faccio entrare la gente più attiva Attualmente il clan, a quanto pare, ha gente veramente molto attiva Allora, intanto concentriamoci in questo chest opening Dove possiamo comprare la principessina, ma a noi non ci interessa perché noi vogliamo Signori, lo stregone elettrico Io ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su, per altri chest opening E poi fatemi sapere se ne vorrete appunto molti altri per Se tante volte non riusciamo a trovare lo stregone Ne faremo tante volte un altro Però ragazzi, io sono sicuro che lo stregone oggi Oggi lo troviamo, quindi Subito partiamo con due epiche Proprio all'allà, all'allà Un golem di ghiaccio per 32 A questo punto, oh madonna i barbari 500, là le carte comuni dovrebbero essere quasi finite Quasi E moli epiche, signori 21 Attenzione, c'è sta Ci sta ragazzi la leggendaria Ti prego Stregone Stregone Elettrico Signori Attenzione, ci potrebbe stare lo stregone Di litte dell'elettrico Ci sta il dragon infernale Va bene lo stesso Ci potrebbe essere lo stregone elettrico Va bene il drago infernale Continuiamo Continuiamo, raga Vogliamo lo stregone Ti prego, stregone Ti prego, stregone 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 6 e 2 Eccola qui 17 e 23 C'è un'altra leggendaria Ti prego Stregone viene a me La scintilla La scintilla Ce l'ho già a livello 3 Io voglio lo stregone Voglio lo stregone, signori Va bene comunque Due leggendari per noi Continuiamo 22 epiche 136 carte rare Si continua Con la Tesla Andiamo avanti con il bombarolo Cavaliere Subito con 11 clonazioni Subito così Un'altra leggendaria Ce l'ho tornato Ti prego Dammi lo stregone Dammi lo stregone Ti prego Ti prego Dammi lo stregone Madonna mia Siamo a due ragazzi Ci esce il dragon infernale E c'è uscita La scintilla Ci devi dare lo stregone Il tronco Basta Ce ne servono milioni Non voglio questi Mi devi dare lo stregone Che maledetto che sei Cioè mi hai dato il 3 leggendari di fila Non mi dai lo stregone Ma sei un maledetto sei Dai Cavaliere Cavanna goblin Quattro streghe Signori Un'altra leggendaria Un'altra leggendaria Mi tocca fare una macumba Che posso fare Che posso Cumba 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 le Cumba cumba le Sanga ninga ninga le Sanga nunga nunga da Qua si chi ne chi ne sghe Lulule Pa 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 Tututa Cungule Cioccolè Le Boscaiolo Vabbè Però portiamo il boscaiolo A livello 3 regà Che non è male La carta boscaiolo Anzi Anzi Guarda che in realtà Mi sono uscite 3 Leggendarie 4 Oddio Quante cazzo Mi è uscito La scintilla Il dragonfernale La tronco Il boscaiolo Mi sono uscite 4 Legendarie Buonissime Mi sono uscite veramente Molto molto buone Le carte leggendarie Quindi non è che Mi posso tanto lamentare Però Adesso Se mi dai La quinta carta leggendaria Di fila E mi dai lo stregone Voglio 50.000 like 4 No non ci sta Non ci sta C'è il cuccio Di tuo padre Dai Dammela adesso Dammela adesso Dammela adesso Subito Un'epica Barbari scelti Scheletri Torre Ci sta Leggendaria 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 Ragazzi 5 leggendari Su 6 bauli 5 leggendarie Su 6 bauli Zungalingalinga Zungalingalinga Da Huma da Ma singa No Huma singa Huma singa Nimmane Dammi lo stregone Lì Amma singba Numma Ha E Nanna Fu cagà E Ma sa Cucucu Cicicicicicicipu Padre Bum Bum Non voglio Dai 5 carte Leggendarie E' Mettato tutto Tranne che Lo stregone Non ci posso Credere Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Non ci posso Credere Ragazzi Non ci posso Credere C'è un Baule gigante Ma non me la voglio Aprire il baule gigante Io volevo un altro Di questo Vabbè Allora A prescindere che comunque Mi ha dato 5 carte Leggendarie Ragazzi Sono proprio il top Sono proprio il top Del top Del top C'è C'abbiamo Il minatore A livello 3 Con 8 8 Quindi ci mancano 2 Per portare a livello 4 Livello 2 Quindi ci mancano 2 draghe infernali Per appunto Portare a livello 3 Il boscaiolo Possiamo già potenziarlo Ma non lo vado a potenziare Momentaneamente In più abbiamo La scintilla C'è veramente Ragazzi Comunque stanno C'è Buono 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 Non ci possiamo Assolutamente lamentare Ma proprio Assolutamente Ragazzi Aviamoci questo omaggio Perché tante volte Qua ragazzi Ho sculato Vi dico la verità Che ho trovato Delle leggendari Attaccate Poi una volta Proprio due di fila Infatti peccato Non ho fatto il video Perché non me l'aspetterei mai E ho trovato due volte Appunto il minatore Dentro questi bauli Di legno Così a buffo Proprio Quelli omaggio E ho trovato due volte Di seguito La leggendaria Quindi qualcosa Proprio di incredibile Abbiamo da 500 E passate Però non Non le voglio sprecare Per aprirmi questo qua Dai mi faccio Eventualmente ragazzi Ce ne apri L'ultimo baule Dai Ce ne apriamo L'ultimo baule Allora Ragazzi ve lo dico Proprio l'ultimi Ma gli ultimi bauli Perché mi sento fortunato Ho trovato 5 leggendarie Su 6 Ma non abbiamo trovato lui Ragazzi Lo stregone elettrico Quindi Andiamo qua Forse coraggio Ce ne possiamo aprire Non so quanti Se tre ancora Di questi Ma vogliamo lo stregone Concludiamo in bellezza Questo chest opening Tanti barbari Per noi E ci da la leggendaria Ragazzi Ci da un'altra Leggendaria 6 su 7 6 leggendarie Su 7 Bauli E ragazzi Senza magumba Perché ormai Ne abbiamo fatte proprio troppe Andiamo a aprire Quest'altro Super baule Magico Voilà Basta Basta il minatore Mi ha rotto il cazzo Voglio lo stregone Voglio lo stregone Vaffanculo Vaffanculo Voglio lo stregone Ragazzi 6 leggendari Su 7 Subito Due fulmini Epiche Subito Escono subito Spiriti Milioni 7 specchi Siamo a 10 E ci da un'altra Tornata Siamo a 3 23 Un'altra leggendaria 7 leggendarie Su 8 Bauli E adesso Mi devi dare Sto cazzo Come cacchio Strecone elettrico Che non è possibile Che non me lo dai Strecone elettrico Vieni a me Cimitero Sono tutte buone Quelli che ci stanno uscendo Ma dove cazzo stai Strecone elettrico Di merda Dove sei Dove sei Regà Non ci posso credere Non ci posso credere Dammi qua Subito 4 furie Ci esce subito 4 furie Un'altra leggendaria Non ci credo ragazzi 8 leggendarie Su 9 8 leggendarie Su 9 bauli Non ci credo Regà Ci sta dicendo Di un bene Incredibile Perché poi Le leggendarie Che ci stanno uscendo Sono tutte 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 Buone Regà La tronco Cimitero Drago infernale Minatore Boscaiolo Che più ne metta Ma niente Strecone Elettrico Signori Questo dovrebbe essere L'ultimo Baule super magicissimo Incredibilissimo E dobbiamo sperare Che ci esce Proprio lui Lo stregone Elettrico Signore Tutti con le mani al cielo Per evocare Dobbiamo prendere Le energie E mandarmela qui Attraverso il video Tutti così Con le mani al cielo Ovviamente dopo che Lasciate il like Mi raccomando Non vi sbagliate Tutti così Signori a casa 3 2 1 Vaffanculo Vaffanculo Il boscaiolo Di nuovo il boscaiolo Eh che cazzo Non lo volevo Il boscaiolo di nuovo È sempre buona Ma non lo volevo To 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 Boscaiolo Basta così ragazzi Va benissimo Abbiamo trovato un sacco di carte Abbiamo trovato ovviamente Tantissima roba E sono comunque contentissimo ragazzi 8 leggendarie Su 9 bauli Che abbiamo trovato Ci manca solamente Un minatore Per portarlo al livello 4 E penso che sarà devastante In più possiamo portare Il boscaiolo al livello 3 E già ne abbiamo anche Un altro Di boscaiolo La cimilare Qua è il livello 4 E la Che te dico a fa Qua possiamo portarci Loro Qua è il migliore Perché ragazzi Ho intenzione di fare un deck Proprio con loro Quindi portiamo al livello 11 Ragazzi Questo video Giunto a termine ovviamente Spero vi sia piaciuto Mi raccomando Un bel pollice sul suo commentato E condividete questo video Passate alla pagina Facebook Instagram Shop online Tutto in descrizione E mi raccomando Dobbiamo raggiungere In questo video Almeno Almeno i 30.000 like Ragazzi Per forza Fatemi sto favore Lasciate almeno 30.000 like Per queste 8 carte Leggendarie trovate E alla ricerca Dello stregone elettrico Che ancora non è arrivato Quindi A 30.000 like Altro chest opening Sempre alla ricerca Dello stregone elettrico Al prossimo appuntamento Bella signori Ciao Ah 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 Ah, ah, ah